Allora, questo titolo Spezzare per rinnovare risale addirittura a un periodo prima che io cominciassi a entrare nel mondo del lavoro, dell'imprenditoria e del design. Perché la nostra è un'azienda vecchia, 140 anni, e devo dire che mi risulta ogni tanto abbastanza difficile quando mi telefonano dall'ufficio per vedermi comparire i baffoni del nonno benvenuto proprio sul video. Come se quando mi chiamano dall'ufficio fosse lui, che io non ho neanche conosciuto che mi chiama. E analizzando un po' meglio questa fotografia ho scoperto che forse era uno dei primi daguerrotipi che a conti fatti era del 1912 che si era fatto fare. Quindi un artigiano di una valle si è fatto fotografare e poi si è fatto fotografare davanti ai mobili provvisto di compasso o martello come si usava allora, una cosa proprio molto pretenziosa. Però quando aveva fatto questa fotografia si era semplicemente dimenticato di mettersi la cravata. E probabilmente nei documenti di allora una fotografia non passava se non aveva la cravata. Lui è stato geniale, nel senso che è stato molto pratico invece di chiamare una volta il fotografo, si vede che questa fotografia gli piaceva moltissimo, se l'è fatta disegnare sopra. Quindi, devo dire, una innovazione in qualche modo. Cioè era uscito dallo schema fisso, beh, spazio, fotografia dell'effetto, io me la invento e me la faccio. E quindi mi trovo davanti questa figura un po' ingombrante, devo dire, sulle spalle. Vabbè, io ho fatto la mia vita, ho provato a seguire l'invito fatto del nonno e sono diventato una figura un po' atipica, nel senso che qualcuno mi dice che sono un imprenditore prestato al design, qualcuno mi dice che sono un designer prestato all'imprenditoria. Non lo so, io comincio la mia storia e poi sarete voi al design. La mia storia è proprio nata così, spezzare per innovare. E devo anche dire, è cominciata in una roba classica. Addirittura, ho spezzato la gamba di una sedia, ma classica, non moderna. Cioè sono incominciato a spezzare per innovare nel classico. Perché? Perché così era l'azienda di, non di mio nonno, ma di mio padre. Allora questo era il catalogo di allora, ma mio papà aveva un problema. Aveva disegnato questa sedia, che vedete, che si chiamava sedia forbice. Siamo anni cinquanta, cinque, sessanta, e la sedia si spezzava. La gamba posteriore della sedia, che diventava anche anteriore, se il legno veniva usato verticalmente, si spezzava in un senso. Se veniva usato nell'altro senso, cioè diagonalmente, si spezzava nell'altro senso. E avevamo sempre un vai avvieni di sostituzione di queste gambe. E a un certo punto a me mi è venuto in mente di fare una roba molto semplice. Ho detto mio padre, ma scusa perché non le spezziamo, questa gamba, e la mettiamo insieme a coda di rondine, come si diceva. Le fibre si intrecciano e lì quello che era un punto di debolezza diventa un punto di forza. Naturalmente mio padre si è scandalizzato, dice che non si può tagliare in due la gamba di una sedia. È uno scandalo, è un sacrilegio. Vabbè, fatto sta che alla fine il sacrilegio è stato compiuto. La gamba è stata tagliata e messa a colo di rondine e i problemi sono stati risolti. Ma da allora questa lezione che io ho avuto dalla vita, dalla vita da me stesso, perché mio papà era contro, mi è servito come metodo di lavoro. Ed è un metodo che io dico anche a voi. Ricordatevi, le cose non sono mai in apparenza chiare. Andate dentro le cose, dentro i problemi. C'è una quantità di elementi che sono all'interno di ogni oggetto, di ogni problematica, che se voi entrate e li guardate con occhi nuovi, con la vostra creatività, scoprete un universo. Qui siamo nel 1968. Quando è cominciata la mia attività e sono passato subito al mobile moderno, al mobile di design, la prima cosa che ho incontrato sono stati dei giovanissimi designer che allora erano, penso che sconosciuti, erano al di sotto dei trent'anni, l'omazio del vino dei passi del corso, i quali, neanche a far opposta, hanno seguito la mia strada. Nel senso che hanno fatto a fette un cassettone. L'ha proprio spezzato, ha fatto a fette e così era esattamente quello che io avevo in mente. Però facendo a fette un cassettone, un cassettone, usando delle altezze multiple, usando la forma quadrata, proprio il perimetro quadrato, permetteva a uno di costruire dei piccoli mobili come dei grandi sistemi che erano totalmente diversi dalla solita cassettiera che noi usavamo. Intanto faceva un accostamento cromatico particolare come voleva lui. Poteva aprire il mobile sui quattro lati e non sul lato solo. Io pensavo già in termini industriali, per me il punto di riferimento era la produzione industriale. E quindi era tutto quello che seguiva la produzione industriale e vi comprese il packaging che voleva dire portare a destinazione il prodotto senza danni. E allora mi è venuta l'idea di prendere il sistema di assemblaggio che usavano allora i frigoriferi. Abbiamo fatto fare due guanci in polistirolo. Io ero un po' titubante perché l'abbiamo anche disegnato bene, nelle guance. Le guance andavano via così e non andavano via in un imbalo di cartone, arrivava così, come fosse un frigorifer. Brooklyn, Brooklyn 77. Questo è stato il prodotto meno commerciale che abbiamo avuto, ma il prodotto che è stato pubblicato in tutti i libri di storia, che è entrato nelle studi di architettura degli architetti, che è di cui ancora se ne parla, nel senso che nella storia che uscirà di 50 anni di design di abitare, loro sono andati a chiedermi queste fotografie dicendo no, è stato un capitolo molto importante. D'altronde, anche qua, industrialità vuol dire produzione economica. Per avere la produzione economica bisogna ridurre il numero dei pezzi. prodotti. La storia di fare a fette in effetti poteva anche andare bene, ma quando tu fai a fette una cosa i prezzi raddoppiano. Se invece in una cassettiera fai quattro cassetti diversi ti costa di più. Quindi era una storia che era bella, andava bene allora così, per amore di Dio, però fondamentalmente all'interno di un prodotto bisogna ridurre il numero dei componenti, ma assemblarli in maniera diversa. Ed è lì che io dico, questa è una scaffalatura, ma all'interno della scaffalatura, se andiamo a vedere, se analizziamo, se studiamo, saltano fuori delle sorprese, salta fuori un nuovo design. Ed ecco che è uscita questa qui che l'abbiamo chiamata a Brooklyn, in omaggio al ponte di Brooklyn, che è fatto da due travi, da due piloni, una grande travatura a cui sono appesi i ripiani come se fossero delle strade di Manhattan. E quindi siamo stati in grado di produrre una liberia con dei piani lunghi 3 metri e 90. Quindi quattro piani e era risolto una scaffalatura di 3 metri e 90. Questo è il sistema di appenderlo, molto semplice. Sheraton con passo d'oro. Ecco, qui credo che venga fuori un'altra volta in maniera diversa, ma anche economica, l'idea che io ho sempre avuto del spezzare per innovare. Si trattava di fare una crevenza. La crevenza doveva costare relativamente poco, come sempre. Uno parte sempre dicendo che deve costare poco, dopo la storia del prodotto, le scelte, la porti in un'altra direzione, ma la prima idea è che il prodotto deve essere semplice di costare poco. Il modo giusto per farla costare poco è ridurre il numero dei componenti. Quindi invece della credenza d'antan, tre ante e quattro cassetti, due ante. Perché se aprisse due ante dovevano essere, si dice sliding, dovevano essere scorrevoli. Io odiavo le ante che andavano uno sopra l'altra, perché lasciavano in vista il binario e uno era dietro e uno era davanti. Odiavo queste storie qui. E allora, questo qui è stato disegnato con lo stoppino, una volta che abbiamo preso l'aereo e dovevamo andare a un appuntamento a New York, io ho detto, senti, io ho un'idea di una creenza. Abbiamo sette ore davanti a noi. Non dobbiamo scendere dall'altra parte se l'idea non è stata risolta. Credo che ci abbiamo impiegato qualcosa come un'ora, poi abbiamo fatto altro. Nel senso che l'unico sistema per fare in modo che gli ante scorrevoli non si sauvrapponessero era mandarle nell'altra direzione, quindi verso l'esterno. Però se vai verso... non puoi aprirlo un'anta di un metro che viene abbattente perché ti ingombra la stanza. Quindi, li buttiamo in fuori e poi... e poi... rottiamo l'anta, rottiamo l'anta perché vada a finire sotto il piano. Allora, la parte dell'anta che viene in fuori si riduce a 60 cm, 70 cm, che è poi quello che va bene. Bene, altre esperienze interessanti. Branzi. Branzi per me è un artista più che un designer. Infatti ha coniugato delle cose veramente interessanti dal punto di vista artistico con applicazioni tecnologiche, ma insomma artistico. E ci ha portato a questo pezzo con tanti legni diversi. Ma... c'era poco da dire lì. Quando siamo entrati a parlare gli abbiamo detto, ho capito, ma lì la dimensione. Quella lì è del televisore. Il bar ha una bottiglia che è alta in un certo... che ha delle misure, i libri hanno delle misure. Allora lui ci diceva, va bene, il bar dove va il televisore, allungatelo di tanto così. Tanto così, eh. Noi correvamo subito a prendere il centimetro per misurare le due dita. Perché lui non si esprimeva in una coordinata come razionale. Era distinto, per cui la misura veniva fuori dalle dita. Sole mio del 89 con stoppino. Seguiamo... è una cosa comica. Nel senso che il mercato ci diceva, e forse lo dice anche oggi, che insomma nell'ingresso ci vuole una mensola con lo specchio. Girgala, rigira, tu gli racconti bene, ma lui vuole la mensola e lo specchio. Allora ci siamo messi lì con lo stoppino a dire, vabbè diamo questa mensola e questo specchio, ma diamo come diciamo noi. Allora ci siamo inventati questa mensola con specchio, come l'abbiamo chiamata. No, proprio c'è scritto. Si chiama Sole mio e sotto c'è scritto mensola con specchio. Pappale, papale. Ci siamo inventati una mensola che portasse una tige che sorreggeva uno specchio rotondo. Detto lo specchio rotondo c'era una luce. La t scendeva sotto il ripiano. Andava a finire in un contrapeso a forma romboidale dove c'era il reattore. E per il funzionamento abbiamo messo un compasso. Per cui il Sole, che poi in effetti è il Sole, si poteva posizionare in tutti i posti in cui si voleva. Era un altro di quei mobili che cambiava faccia. Oltre a dire se andava lì un bambino si tira giù lo specchio all'ortezza. Vai, ma quali sono sottigliezze. No? E poi c'era la luce. E allora c'era la luce, c'è il Sole, chiamiamolo Sole mio. E così è dato questo pezzo secondo me sorprendente, fatto di niente eppure estremamente tecnologico. Già la luce era a basso consumo. Ecco perché c'era il reattore. Stoppino mi sembra che sia un designer molto conosciuto, però molto presente. Tant'è vero che tu dici quando c'era un problema ne parlavo con lui. Forse potrebbe essere interessante capire. Era un designer con il quale condividevi un'affinità elettiva precisa. era esterno, un po' interno, era delle tue parti. Com'è che hai condiviso così? Allora, la storia è molto semplice. Quando io ho disegnato il Parioli, quel mobile rivestito di acciaio, io non l'ho firmato col mio nome. L'ho firmato ufficio tecnico. Perché? Io ho fatto quel prodotto lì perché la fabbrica spingeva, voleva pezzi da produrre. dai designer che avevo allora usciva delle robe che non si vendevano. Allora mi sono messo lì, ho disegnato questa roba qua, però ho dichiarato che è quello che ha risolto il problema per 8-9 anni della fabbrica. Però ho detto, io sono un imprenditore, non solo un designer. Dopo 12 anni, ancora... Noi abbiamo sempre avuto un po' di difficoltà a trovare dei prodotti, dei mobili, perché i mobili non sono particolarmente facili, vai sul banale oppure è un po' difficile. E avevo delle idee da portare avanti. Volevo che continuasse questa spezzare per rinnovare. Volevo trovare qualcosa di nuovo nei progetti e non fermarsi sulla superficialità. Allora ho chiesto a Stoppino, che era un designer importante allora, se voleva collaborare in questa avventura. E ci siamo messi d'accordo e ho detto, vabbè, filmiamo assieme, perché io molte idee le ho. Però io alcune volte mi annoio sui dettagli, proprio non me ne frega niente dei dettagli. Dico, fai il tè, la maniglia, fai la tè, cosa vuoi... In effetti io poi controllavo, ma non mi impegnavo più di tanto. A me quello che mi interessava era il concetto di spezzare per rinnovare. E allora ho cominciato a firmarmi insieme con Giotto Stoppino. Quando, 40 anni dopo, cioè settimana scorsa, ho ripresentato il Parioli, che l'avevo disegnato ufficio tecnico, naturalmente a questo punto ho messo l'Odorico Cervi, perché non aveva più ragione di mantenere l'anonimato. E con Giotto Stoppino abbiamo firmato molti progetti. Questo è uno. Qui, allora è un po' un periodo in cui c'era un po' di classicismo, c'era un po' di ritorno al classico, il minimalismo non era ancora ben chiaro cosa fosse, eccetera. Ci siamo inventati quest'anta qua, che è una grande anta a Carabottino, la quale scende a ghigliottina per circa due terzi e poi si va a posizionarsi sotto. Quindi anche qui era sempre l'idea di ridurre il numero di componenti e comunque di, entrando nella struttura del mobile, cambiando le cose, trovare un mobile nuovo. Come vedete, quando è aperta, quella anta lì diventa una grandissima a vassoio e, prof, con un getto, con un movimento, la cadenza è chiusa. Con un altro movimento, l'altra è aperta. Semplice. Qui siamo nel 99. 99, forse, è il primo pezzo che disegno da solo, dopo la breve esperienza con gli altri architetti e questo Pino. e qua il concetto era completamente cambiato. Nel senso, non siamo più negli anni 60, non siamo più negli anni 70. Siamo all'inizio degli anni del 2000, dove tutto quello che riguarda la tecnologia del televisore, dell'i-fi, era completamente cambiato. Completamente cambiato. E stavano uscendo i plasma, quindi il problema della profondità non c'era più, ma fondamentalmente c'era il problema della connessione, perché una volta uno comprava giravischi che durava una vita. oggi compra un lettore di musica e dopo 15 giorni lo cambia. Compra un lettore di videocassette e poi lo cambia con il DVD e dopo lo cambia con l'HD, continua a cambiare. Allora, il problema era, sì, rispondiamo alla solita domanda del televisore, cuore della casa, del caminetto, tutte quelle menate lì, ma facciamo in modo che il mobile risponda, prenderli facilmente a queste esigenze dell'utente. secondo, era finita e stava finendo l'idea della libreria. Nei soggiorni, se voi ci pensate bene, non si faceva che mettere nella parete principale una grande libreria, camuffata da tutt'altro, con la vetrinetta, senza la vetrinetta, col televisore, ma insomma, era una libreria. E la libreria, secondo me, era una specie di prigione, perché la prigione è fatta da barre, così, e quelle librerie lì sono fatte da spalle e da montanti, era una prigione. Tu, in quel che noi chiamavamo reticolo, non ne uscivi fuori. E che voleva dire? Nessuna personalizzazione, o quasi nessuna. Allora abbiamo provato a ragionare in altri momenti. Il consumatore finale è completamente cambiato. Gli interessi, che una volta erano scarsi e contenuti, erano esplosi. La gente girava il mondo, aveva i suoi interessi principui, dava in giro, comprava oggetti che voleva esporre, esperienze che aveva... E l'esigenza di personalizzare la propria stanza. Se tu metti una libreria di qualsiasi produttore che hai, metti un qualcosa come le prigioni. E da lì non esce più, cambia il colore, ma è sempre quella. Allora abbiamo incominciato a dire, inventiamoci una serie di mobili e ogni mobile risponde all'esigenza funzionale dell'utilizzatore. C'è quello che vuole i libri, sceglie o scappare dei libri. C'è quello che vuole la credenza, sceglie la credenza. C'è quello che vuole esporre, sceglierà un mobile espositore. E facciamo in modo che queste composizioni vadano assieme. Non solo vadano assieme, perché io... Adesso qui vedete una configurazione. Ma la configurazione può cambiare relativamente, ma può cambiare. E abbiamo detto, bene, abbiamo quattro mobili, arretriamo lo schienare, ricaviamo dieci centimetri che noi chiamavamo la fascia tecnica. dove, in quei dieci centimetri, potessero passare tutti i cavi. Ecco, un'altra cosa che non pensavamo all'inizio è che avendo immaginato un mobile, non come un reticolo bloccato, in cui puoi allungare, allargare le misure, ma come un insieme di elementi, gli elementi nel tempo sono aumentati. Invece di avere quattro, ne faccio cinque, ne faccio sei. E quindi questo sistema, no? Che si chiama, neanche fra l'opposto, New Concert, perché era proprio il concetto che cambiava, no? Si è arricchito, per esempio, di questo mobile straviliante che la concorrenza ci invidia da matti, senza, non solo riuscire a copiarlo, ma senza volere copiare. Perché il mio concorrente in diretto mi ha detto, lo dico, io questo mobile qui non te lo copierò mai. io lo so che i miei clienti comprano questo mobile qua, col televisore, e lo mettono sul mio mobile. Mi va bene così. Mio figlio Marco, mio figlio Marco viene da me un giorno e mi ha detto, papà, ho qua una credenza da farti vedere. Tu vieni da me, il re delle credenze. Non lo so, io dico, ma... No, no, guarda, è una credenza bellissima. Non è dubbio, scherzo. Ha fatto una credenza che a me non mi verrebbe mai in mente di fare. Completamente tonda, sempre con dei meccanismi, eccetera. E poi, per sottolineare la sua autonomia da me, giustamente, l'ha chiamata super ego. In maniera tale che io lì sono rimasto chiamato, perché c'è l'ego, poi c'è il super ego. È una bellissima credenza, completamente tonda, col problema difficile, di far scorrere le ante, una sopra l'altra, ante che sono fatte a U. Quindi non c'era nessun meccanismo, non c'era niente. Era proprio una sfida nella sfida. E siamo riusciti a risolverla con dei compassi che ci sono all'interno, per cui, semplicemente, tu fai così, fa... Poi la chiudi, fa... Questa credenza viene chiamata, è stata chiamata dai clienti, la Ferrari delle credenze. Tanto è precisa, perfetta nel suo movimento. Allora, alla fine di questa storia, mi sono posto la domanda, va beh, il mio fantomatico nonno benvenuto, che mi guarda sempre dall'iPhone con questi baffi così, sarà contento dalla storia che ho fatto quello. Ho detto, boh, andiamo a dargli un'occhiata. Ho scoperto la tomba, l'ho guardato, porco cane! La famosa cravatta che era dipinta a mano, è diventata colorata. Quindi devo desolvere che gli altri, gli andasse bene, perché la trasformazione l'ha accettata e è entrato nel colore. Io vi ringrazio molto, devo in particolare, però prima di chiudere, ringraziare tutti i designer che hanno lavorato con me, ringraziare in maniera particolare il nostro grafico Claudio Platenia, che è qui, a qualche parte, che praticamente ha seguito l'evoluzione dell'azienda dall'inizio fino ad oggi. ogni fotografia che avete visto, ogni segno grafico, è stato fatto da lui. Molte grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie a tutti.